Però ci tenevo a presentare i due nuovi capigruppo della Lega Nord al Senato e alla Camera che sono Gianmarco Centinaio, anni 42, quindi penso uno dei più giovani capigruppi che il Senato della Repubblica si ricordi e Massimiliano Fedriga, di anni 34 per la Camera, quindi al confronto i renziani sono dei vecchietti per quanto ci riguarda. Ringrazio ovviamente il capogruppo al Senato uscente che per nostro merito e fortuna non è più capogruppo perché è stato eletto sindaco di Padova e ringrazio ovviamente e doppiamente anche Giancarlo Giorgetti che ha allevato un gruppo che ha la forza, l'abilità e la maturità di trovare al suo interno i ricambi che in politica come nella vita sono necessari. Penso che siamo in 30, poco più di 30 su 900, però devo dire al Segretario federale che questi 30-35 su 900 stanno facendo un lavoro che vale per 10 e quindi sono sicuro che i due capigruppo rappresenteranno un modo di fare opposizione ferma e intelligente sia al Senato che alla Camera anche perché di opposizione questo governo allo sbando ha assolutamente bisogno. Penso che stiamo vivendo uno dei periodi peggiori che la democrazia e l'utilizzo delle libertà ricordino negli ultimi decenni sia in Italia che in Europa perché sotto i sorrisi e dietro i selfie c'è veramente una volontà di impossessarsi di qualunque ganglo di potere, poltrona e organismo istituzionale con delle coperture anche ad altissimo livello che mi riportano indietro di qualche decennio, anzi di qualche novantennio e quindi di un'opposizione seria, gagliarda, motivata, costruttiva e non comprabile, penso che l'Italia abbia bisogno. Io penso che i due capigruppo che avranno un lavoro da fare non indifferente ma saranno agevolati da due ottimi gruppi sia il Senato che la Camera dovranno incarnare l'unica voce veramente alternativa al renzismo. Lo aspetto domani a petto nudo a mietere il grano e poi penso che i corsi e ricorsi storici ci siano tutti. E quindi auguro buon lavoro a Gianmarco e a Massimiliano perché di lavoro da fare ce n'è tanto se vogliono, scusandomi per il ritardo, se vogliono presentarsi in, anzi magari se vogliamo partire dal capogruppo uscente alla Camera e poi che abbiamo defenestrato orora e poi passiamo ai subentranti per un minuto di presentazione ad uso dei colleghi giornalisti. Diciamo che sono un defenestrato felice nel senso che credo che sicuramente alla Camera ma ovviamente anche al Senato parlo per la Camera perché riguarda direttamente dal gruppo giovane di suo si è estratto una persona giovane ma che ha già dimostrato di essere assolutamente capace, rispettata all'interno dell'Aula e quindi con l'energia giusta per portare avanti le nostre battaglie. Io sono felicissimo perché come ho detto prima al gruppo chi rappresenta, chi ha la responsabilità deve in un certo momento storico in quel momento deve anche sempre immaginare chi può venire dopo di lui qualcuno che sia capace di portare avanti il testimone altrimenti non sta adempiendo esattamente al suo compito quindi io passo il testimone consapevole che Massimiliano Fedriga sarà sicuramente in grado di continuare la corsa. Grazie, ringrazio il segretario, il gruppo e devo dire in particolar modo il presidente Giorgio Ittusciente che mi ha dato la possibilità di fare esperienza alla Camera in questa legislatura come delegato d'Aula e lo ringrazio anche per il bagaglio di conoscenze e capacità politica che ha trasmesso non a me ma a tutto il gruppo. Lui era più tempo che insisteva a dare le dimissioni perché ha detto serve ricambio generazionale più volte la Lega gli ha chiesto rimanere il tuo posto Potrei andare a fare il capogruppo al Senato E tu me lo chiedi infatti E quindi veramente ringrazio tutti i cuori Adesso è chiaro che le battaglie che ci troviamo ad affrontare convolgeranno non i presidenti di gruppo ma il gruppo e anzi tutto il movimento intero Noi le prossime settimane, anzi precisamente il 21 in Aula avremo una prima grande battaglia che è quella del governo Renzi che vuole regalare 8 euro al giorno per ogni carcerato pensa di dare i soldi a chi ha commesso i reati non invece alle persone oneste che stanno vivendo il dramma occupazionale il dramma della disoccupazione il dramma delle imprese che chiudono gli imprenditori che si suicidano il governo Renzi decide di dare 8 euro al giorno ai detenuti non solo e di dare incentivi alle aziende che assumono detenuti o ex detenuti queste sono le battaglie per quale la Lega è nata le battaglie di giustizia e di equità e di premiare Abele e Nuncaino è una delle tante battaglie che portiamo avanti con rimane ovviamente il diretto contatto con la Sede federale e con la conoscenza che rimane fortunatamente grazie a me perché l'impresario è difficile del presidente Giorgetti anche io vorrevo ringraziare il segretario federale Matteo Salvini il mio capogruppo uscente non ce l'ho perché come ha detto giustamente il segretario in questo momento sta iniziando la sua esperienza da sindaco di Padova e quindi sta facendo ottimamente il suo lavoro un ringraziamento particolare lo vorrei fare a tutti i miei colleghi del gruppo al Senato perché in questo anno poco più che lo stiamo passando insieme stiamo crescendo insieme al Senato siamo un giusto mix tra giovani perché prima è vero che ho 42 anni potrei sembrare vecchio ma al Senato sappiamo benissimo che l'età minima è 40 e quindi siamo un giusto mix tra giovani intesi come giovani alla prima esperienza di legislatura ed esperti e quindi secondo me questa è la forza di un gruppo di un gruppo parlamentare che in questo momento sta facendo vedere sta facendo vedere esattamente sta facendo vedere bene quanto vale nell'aula del Senato noi contrariamente alla Camera nelle prossime settimane avremo forse un argomento meno interessante e meno avvincente per quanto riguarda il nostro elettorato perché è quello delle riforme costituzionali però anche su questo argomento la Lega vuole dire la sua perché riteniamo che sia importantissimo che la Lega dica la sua perché non vogliamo lasciare che Renzi e la sua banda di amici governino indisturbati e creino più danni di quelli che stanno facendo e vogliamo che il signor Renzi quando viene al Senato questo lo chiederemo fino a quando avremo voce abbia rispetto nei confronti di chi è stato eletto dai cittadini italiani non come l'ultima volta quando invece che ascoltare il dibattito al Senato se ne è andato a vedere la partita di pallone quindi riteniamo che chi ha la pretesa di rappresentare i cittadini italiani come lui penso che debba avere rispetto nei confronti dell'aula del Senato e nei confronti di chi noi non noi solo come Lega ma tutti noi senatori e tutti noi parlamentari rappresentiamo in questo momento non è solo lui che rappresenta gli italiani grazie grazie